La vicenda Ilva ha abituato a grossi colpi di scena e anche questa settimana non ha fatto eccezione. Partendo da lunedì 15 quando il governo, dopo la riunione tra il premier Conte e i ministri Patuanelli e Gualtieri, sembrava sul punto di scaricare Arcelor Mittal, definendo il piano industriale presentato dall'azienda completamente inaccettabile e addirittura c'erano indiscrezioni sul fatto che in settimana sarebbe potuta arrivare già anche una nuova NIUCO per la gestione dello stabilimento siderurgico, così come fatto in Alitalia. Dichiarazioni a cui ha risposto Lucia Morselli con una lettera in cui specificava che il piano, almeno lo spirito del piano, era stato travisato che non era quello di depotenziare l'azienda ma quello di aiutarla a superare un momento difficile. Una lettera che all'inizio sembrava non avesse sortito effetti ma che invece ha portato poi a un confronto il mercoledì con il capodelegazione della negoziazione del Mise Francesco Colau, la D di Invitaglia Domenico Arcuri e, oltre allo stessa Morselli, il responsabile Merger Acquisition di Arcelor Mittal o Tradovec. Ma il vero colpo di scena è arrivato alla sera di mercoledì, quando Lucia Morselli si è presentata nello studio di Porta Porta per un'intervista esclusiva. Un'intervista a 360 gradi in cui la manager ha confermato in toto gli impegni di Arcelor Mittal sul siderurgico, sia sul fronte industriale che ambientale, definendo però che il piano, tenendo fede agli accordi del 4 marzo, doveva essere ricalibrato sullo scenario mutato causato dall'epidemia Covid. La vera dichiarazione shock è stata però che il governo sapesse già da marzo degli esuberi che oggi definisce inaccettabili. Una dichiarazione che ha portato a una veamente reazione da parte delle parti sociali che accusavano il governo di non essere stati informati e soprattutto erano scandalizzate dal fatto che il governo non avesse replicato all'amministratore delegato. Per cui tutto questo scenario ha riaperto i giochi e ci si aspetta nuovi sviluppi, anche se al momento non è stata convocata nessun'altra riunione nel breve termine.